Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. 11 marzo 1984. Esattamente 40 anni fa andava in onda su Rai 1 la prima stagione a puntate della Piovra, uno dei serial TV, o sceneggiati come si chiamavano al tempo, fra i più noti ed importanti della televisione italiana. Il segreto del successo della Piovra, che proseguirà negli anni per ben 10 serie, seppur con alterna fortuna, era la veritiera commistione tra eventi possibili e finzione spettacolare, una inverosimile verosimiglianza, come la definirà il suo protagonista più iconico Michele Placido, che arriverà a scuotere con forza l'interesse del pubblico, non solo italiano ma anche europeo ed internazionale. La Piovra sarà infatti acquistata anche all'estero per i palinsesti di diverse TV nazionali e via cavo, arrivando ad essere doppiata anche in Russia e trasmessa in Nord e Sud America. La scelta di un regista di cinema, Damiano Damiani, di girare la prima Piovra per la televisione non era casuale. In quegli anni, denunciava lo stesso Damiani, nello spettatore c'era il rifiuto della rappresentazione della realtà traumatica che lo circondava, con il conseguente successo cinematografico della commedia di evasione. La TV quindi iniziava a sostituirsi ad una parte del cinema, per tornare a raccontare storie di valore civile, come quella del Giorno della Civetta, grande successo dello stesso Damiani del 1968. Con la Piovra, il regista friulano tornava a raccontare non storie di mafia, ma la nuova mafia, legata a filo diretto con l'affermarsi di strutture oscure ed invisibili, in quegli stessi anni in forte contrasto con l'emergere di nuove figure di funzionari pubblici e magistrati che arrivavano anche al sacrificio personale pur di salvare la democrazia. In questo scenario globale di forte ambiguità erano calati microcosmi di storie private e di personaggi umani dal ritmo teso ed oscuro, i cui drammi, pieni di intrighi, si intrecciavano nello svolgersi delle puntate con un apparato di potere parallelo e a tratti sovrapposto a quello di interesse pubblico. Nella Piovra 1 incontriamo il protagonista, un giovane Michele Placido, che interpreta l'inflessibile e senza macchia commissario Corrado Cattani, appena trasferitosi dal nord, con la sua famiglia, in un caldo paesino del Trapanese, per indagare sull'assassinio del capo della locale squadra mobile. Qui, in un clima di costante senso di smarrimento, dovuto anche alla difficile situazione familiare, un matrimonio fortemente in crisi con la moglie Els, interpretata da Nicole Jamet, Cattani arriva presto a confondere i suoi sentimenti personali con la sua opera di tutore della legge. Solo contro tutti e scoraggiato per l'improvvisa perdita del suo unico fidato collaboratore, il vice commissario De Maria di Massimo Bonetti, Cattani si rifugia nell'amore di una giovane tossicodipendente, Titti Pecci Scialoia, una quasi esordiente Barbara De Rossi, già amante del femminaro boss locale, il sante Cirinnà di Angelo Infanti. Nel tentativo di non coinvolgere Titti nelle indagini, nonostante sia testimone oculare degli omicidi di Cirinnà, l'integerrimo ed incorruttibile tutore della legge Cattani cade vittima proprio del ricatto sui sentimenti personali. Un punto vulnerabile che l'organizzazione criminale ben identifica e sfrutta, mettendo in atto crudeltà senza scrupoli morali, che avranno la conseguenza di distruggere non solo la carriera, ma anche la vita personale del commissario. Con una scelta di palinzesto coraggiosa, che sacrificava il film di prima serata del lunedì, per due settimane la prima serie della piovra consentirà alla RAI di vincere la dura lotta dell'audience televisivo, non solo sulle altre reti, ma anche sullo share del cinema in tv. Realizzato con un grande mestiere, allora sconosciuto alla televisione, la piovra riporterà alla ribalta temi scomodi, spesso dimenticati, allora come oggi. Le condizioni delle carceri, i drammi delle droghe, il riciclaggio di denaro sporco e la corruzione di alti apparati dello Stato. Con la piovra 2, l'azione si spostava dalla Sicilia a Roma, dove il commissario Cattani, dopo aver raggiunto il punto più basso della sua esistenza, ormai caduto in disgrazia sia professionalmente sia umanamente, è costretto a scendere a compromessi pur di ritrovare la libertà e ricominciare una nuova vita. A Roma, però, l'ex commissario ritrova alcuni dei suoi vecchi nemici, ora invischiati con un alto funzionario che Cattani credeva a suo amico. Nella capitale nascono però anche nuove alleanze che gli consentono di iniziare a trovare un'altra tortuosa via per la giustizia. Nessuno è più buono o cattivo da tempo, non ci sono né vincitori né vinti, ma solo uomini con sete di potere. Così la pensa il regista Florestano Vancini, che con la sceneggiatura di Ennio De Concini e le musiche di Morricone, porta su schermo altre sei puntate, andate in onda tra gennaio e febbraio del 1986, che iniziano a mostrarci alcuni dei numerosi tentacoli della piovra. Da locale a nazionale, da nazionale ad internazionale. Con la terza serie, per la direzione di Luigi Perelli, la piovra diventava il programma europeo più diffuso nel mondo. Ennio De Concini, ancora alla sceneggiatura, dipinge un commissario Cattani inizialmente alle soglie di una crisi mistica, che pian piano ritorna alla vita e alla lotta dopo essere rimasto solo, anche contro quella giustizia a cui si era completamente affidato. Con atmosfere a tratti rarefatte, come quelle dell'ispettore Derrick, un'influenza forse dovuta alla coproduzione della tedesca ZDF, la piovra 3 si sposta a Milano, arrivando a coinvolgere il complesso mondo della finanza internazionale del traffico di armi. Nello svolgersi delle sette puntate, il commissario Cattani resterà nuovamente da solo, trovando però nel suo cammino la Giulia Antinari di Giuliana De Sio, una donna capace di restituirgli la forza e forse l'amore, sebbene legata a doppio filo proprio con la famiglia di banchieri dai loschi affari. Ancora campione di audience, la terza serie non raggiungerà però il record dei 22 milioni di telespettatori della seconda, fermandosi solo a 14, con qualche polemica della critica per un finale non proprio all'altezza di tutto il resto. L'avventura del commissario Cattani si conclude con la quarta serie, andata in onda nella primavera del 1989. Alla regia, di respiro ancora più internazionale e con richiami al cinema d'azione, sempre Luigi Iperelli. All'inizio, volutamente isolatosi nella sua Milano, dove si accontenta di una routine fatta di pesci piccoli, quasi per caso o per destino che dir si voglia, Cattani ritrova il Tano Cariddi di Remo Girone e pian piano entra in contatto con un altro tentacolo della piovra, solo accennato nelle serie precedenti, quello dei colletti bianchi, dei grandi affari, delle tangenti insospettabili. Per consumare il suo personaggio, il commissario Cattani ha bisogno di confrontarsi con antagonisti sempre più spietati, per far emergere le sue autenticità di Uomo fra gli uomini. In questo episodio finale, lungo 600 minuti, lo affianca la giudice Silvia Conti di Patricia Milliardet, che non riuscirà a salvare Cattani dal suo destino. Le quattro serie della piovra con Michele Placido sono state pubblicate negli anni in diverse edizioni, molte disponibili anche in ridicola, a partire dal formato VHS. Proprio al ridosso del quarantesimo anniversario dalla sua uscita, in un mercatino dell'usato romano, mi è capitato questo cofanetto, a dire il vero, un po' difficile da trovare in commercio. In questo comodo e compatto box, sono racchiusi tutti i 25 episodi dei quattro anni, raccolti in 13 DVD. Il cofanetto non riporta la suddivisione originale delle puntate, così come trasmesse in televisione. Ogni episodio è della durata circa di un'ora, tranne che per la quarta serie, rispetto all'ora e mezza del palinsesto Rai. In questo modo, ogni DVD riesce a contenere due puntate con un livello di compressione accettabile. La qualità video o dell'edizione non sono certo i punti di forza di questo box. Sulla qualità video, l'attesa era ovviamente questa, visto gli anni e la provenienza televisiva. La sorpresa è stata che con l'avanzare degli anni la qualità non migliora. Anzi, la terza serie è forse la peggiore da questo punto di vista, affetta da un quadro particolarmente annacquato, che più frequentemente delle altre serie trema spostandosi a destra e sinistra e viceversa molto velocemente. Un effetto che può infastidire una visione oltre la singola puntata. Riguardo all'edizione è veramente basic, ma può anche starci. Nessun contenuto speciale e stessi menu di navigazione con le immagini della Piovra 1 per tutte le serie. In compenso l'audio, seppur dual mono e tutto concentrato sul solo canale centrale, attivando la modalità surround del sinto amplificatore, è chiaro e pulito e non crea fatica d'ascolto. Solo il volume delle musiche, a volte, è più elevato rispetto al parlato, soprattutto nei titoli iniziali. Alla fine, comunque, poco importa in che formato lo abbiate. Non serve nemmeno un supporto fisico. Le serie sono disponibili gratuitamente su Rayplay. L'importante è che l'abbiate vista o che la vediate se siete appassionati di serie TV come Romanzo Criminale o Gomorra. e magari che la curiosità vi sia avvenuta grazie a questa chiacchierata. In una prossima video recensione anche il secondo box contenente le serie dalla quinta alla decima. Anche per questo video è tutto. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.